Io come Nero Alessandri e il team Tecnogym per il 2015 abbiamo un grandissimo obiettivo che è Expo 2015. Noi saremo i wellness partner del più grande evento planetario del 2015 che vedrà più di 25 milioni di persone in Italia alle quali vogliamo provvedere una soluzione wellness, quindi un supporto in termini di servizi, applicazioni, contenuti, location all'interno di Milano, all'interno di Expo 2015 per rendere più piacevole il soggiorno, per dare a loro la possibilità di misurare i risultati in termini di movimento, consigli per alimentazione e promuovere il benessere e la salute come stile di vita all'interno di un contesto che parla di sostenibilità del pianeta in termini di nutrizione. Noi riteniamo che le persone non sono nate per mangiare e poi se hanno bisogno devono muoversi, ma bensì le persone sono nate per muoversi e se hanno bisogno poi devono mangiare. Quindi il mondo si sta ingrassando e noi vogliamo fare in modo che le malattie derivate dai cattivi stili di vita si riducono al minimo. Io credo che dobbiamo ritrovare quella fiducia, quell'orgoglio, quell'ambizione, quell'energia che avevano i nostri genitori negli anni 60 e i nostri imprenditori negli anni 70 dopo la ricostruzione della dopoguerra. Quella è stata l'Italia vera che ha dimostrato il meglio di sé. Oggi abbiamo un altro tipo di guerra, siamo in guerra economica, in una guerra più di valori, in una guerra più etica. Io credo che gli imprenditori tutti insieme possono fare la differenza e ognuno di noi assumerci la nostra responsabilità per innovare sui prodotti, innovare sui mercati e innovare a 360 gradi. Grazie a questo e grazie a questo slancio potremo aumentare l'occupazione, ridurre quindi il numero di persone che non hanno lavoro e ridare lo slancio che l'Italia si merita e di ritornare l'Italia di un tempo, l'Italia che è il paese più bello al mondo e deve avere anche quella credibilità e quell'economia e quella sostenibilità che possa assicurare il futuro ai nostri figli e alle nostre famiglie.